E' un attacco, un attacco alle criptovalute, un bear market fortissimo, ragazzi ce lo aspettavamo, però non è mai bello quando poi si vedono un po' i risultati di quelle che erano anche le attese, quello che ce l'avamo detti anche nei giorni scorsi, tutti i rischi legati al momento particolare del settore cripto, quelli legati ad Ethereum, ragazzi, che ha rotto anche la resiste, il supporto contro Bitcoin, quindi spondando quello che era il minimo importantissimo di 0.055, Bitcoin non ce la fa, brecca il livello di supporto a 30k, 29k, in maniera definitiva crolla a picco 10, meno 10, meno 15% nell'arco di poche ore. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, oggi un video recap di analisi, ragazzi, di analisi ciclica e anche un po' di quelle che sono state le news gravissime, importantissime, impattanti sul mercato delle cripto. E' finito questo bear market, bear market che ci aspettavamo da tanto tempo, è finito, siamo tornati, diciamo, siamo arrivati a dove dovevamo arrivare, purtroppo no, abbiamo raggiunto un primo livello di supporto, una prima area di supporto, ma a livello tempistico, ciclico, non è ancora il momento giusto. Siamo solo a metà giugno, ragazzi, sapete bene che abbiamo davanti dei mesi difficili, la situazione si va a complicare in maniera pesantissima, quello che vi dicevo tempo fa, cioè il fatto che dovevamo resistere, resistere il più possibile in barra di congestione, anzi addirittura fare un leggero up per preparare poi un'eventuale discesa, così come la stiamo vedendo, partendo da prezzi più alti, era proprio un paracadute per questa situazione, situazione che va via via peggiorando, ragazzi, anche perché nella settimana scorsa la BCE, la Banco Centrale d'Europa, ha iniziato a tirar giù il discorso che anche lei alzerà i tassi. Allora, tassi di interesse verso una nuova politica, tutto quello che cambia nella, tutto quello che avete visto negli ultimi 10-15 anni nella storia dei mercati finanziari sta cambiando, ragazzi, è il problema legato al fatto che il famoso passato non prevede il futuro e che quando si ragiona in questo modo con i paraocchi, come ho detto nell'ultima live, senza approfondimenti, con estrema superficialità gli investimenti e i mercati, poi puniscono in maniera radicale. Ora, sta crollando tutto, sta finendo, è la fine del mondo, non è così, ragazzi, è un percorso che i mercati stanno facendo. Io non credo a questa ipotesi di distruzione di massa dell'intero ecosistema, ma le crypto sono sotto attacco. Ethereum è in difficoltà, lo sapevamo, ragazzi, non è una novità, quindi non è una cosa che chissà che cosa sta succedendo. Che la DeFi fosse destinata a riassorbirsi in maniera pesantissima, ne abbiamo parlato da mesi, mesi e mesi, ragazzi, che non bisognava avere crypto in portafoglio, a parte Bitcoin in una maniera estremamente ridotta. Poi, ognuno segue le proprie strategie, ragazzi, ne abbiamo parlato negli ultimi 3-4 mesi, proprio per la questione legata alla volatilità del portafoglio, al ridurre la volatilità del portafoglio, ridurre i rischi e seguire i trend, ragazzi. I giochi si stanno svolgendo, sono peggiori al momento di quelli che mi aspettavo io stesso. Vediamo se in settimana le banche mettono un tappo a questo declino importante, non solo nei mercati crypto, anche nei mercati hold, perché anche Nasdaq oggi meno 3 e tocca nuovi minimi, ragazzi, ma non è finita perché la questione ciclica ci indica che l'annuale è ancora in corso. Annuale brutto, terribile. Oggi ho un sacco di grafici da mostrarvi, però, ragazzi, le informazioni sono veramente tantissime. C'è anche la questione legata a Celsius, che dice bye bye e chiude i withdrawal, quindi non si possono più prelevare i fondi da Celsius perché evidentemente stanno andando in bank run, non si sa, mancano delle liquidità, eccetera, ne approfitta Nexo che dice, e invece dici no che mi prendo tutti i crediti. Di queste cose ne parliamo domani, ragazzi, perché sono tantissime le news in questa settimana, quindi non è fattibile in un unico video. Oggi andiamo a fare le analisi ciclica tecnica dei mercati. Vi faccio vedere il grafico, un nuovo grafico sul gold con bitcoin per farvi capire anche la posizione di medio-lungo periodo. Ragionare il lungo periodo, ragazzi, non farsi influenzare, non farsi abbindolare il lungo periodo, ma ragionare di lungo periodo significa andare a guardare dove siamo nel lungo periodo, che cosa stiamo costruendo e cosa ci aspettano i mesi davanti. Ve lo dico da quattro mesi. Quello che sarebbe successo non è una cosa strana. Non si tratta di prevedere il futuro, ragazzi, si tratta di leggere dei dati oggettivi presenti sui grafici visibili a tutti e non farsi abbindolare da news inutili, senza senso, eccetera. Non è la fine del mercato crypto, io non la penso così, ragazzi. Assolutamente non è la fine neanche di Ethereum, secondo me, ragazzi, però è un secondo me nel caso di Ethereum perché chiaramente non è bitcoin e soprattutto bisognerà vedere se c'è un attacco ferrato alla crypto, alla decentralizzazione. Questa famosa DeFi non è voluta, ragazzi, da forze terze e quindi lì sarà una distruzione totale, però questa cosa sono un po' gossip, no? Quindi non sappiamo se sono vere o non sono vere. Quindi io direi atteniamoci ai fatti. Guardiamo i grafici. Tutto quello che sta succedendo lo avevamo indicato, era presente nella ciclica, era presente nell'analisi tecnica, era presente nei breakout di analisi tecnica, nei dati. Tutto sta confluendo lì. Magari con più forza, magari con più violenza, magari in maniera un po' più determinata, però non è una cosa anomala. Sapevamo che sotto determinati livelli di supporto, ragazzi, avevamo il baratro. Ed è questo quello che stiamo vedendo in questo momento. Allora, andiamo a vedere dei grafici. Ragazzi, oggi sono in postazione mobile e andiamo a vedere i grafici intanto e ragioniamo un po' su quelle che sono le cose più importanti. Allora, intanto questo grafico ve lo mostro dopo, che è quello del gold, per farvi capire un po' tante cose, la questione ciclica di bitcoin. Allora, il famoso mensile, che non si capisce dove si è iniziato, anche se grazie a un trader, un utente high level dell'academy, ragazzi, mi ha fatto venire in mente è che la possibilità di analizzare quello che era il grafico dei future dei mercati CME su bitcoin. Quindi, tralasciando, in sostanza, il grafico di bitcoin che noi vediamo, è in effetti, ragazzi, sui future. Vedete che la struttura di bitcoin è leggermente più chiara, perché alcune volte all'interno di questi movimenti di prezzo ci sono i sabato e le domeniche che ormai abbiamo visto non sono così tanto precisi e così tanto utili, visto che bitcoin ormai si è in pratica collegato al mercato classico. Comunque, in ogni caso, andiamo a vedere i nostri soliti grafici e vediamo che, ragazzi, questo tipo di ciclo mensile che dovrebbe essere più o meno iniziato in questa zona verso la struttura di maggio, ragazzi, quindi verso questa fase del fallimento del progetto luna, eccetera, e che anche qui si vede più o meno essere presente intorno, vedete, sul CME. Questo è il grafico del future bitcoin di CME, quindi senza, in pratica, le domeniche, ragazzi, quindi quello che fate qui è non vedere le sabati e le domeniche, insomma, ok? In questa zona, qui vedete, la struttura di chiusura chiama intorno al 12 di maggio, qui io ho messo il 18, però il linea di massima, ragazzi, questo è un mensile che nuovamente vira al ribasso con questo crash, breccando l'ultimo minimo, gira al ribasso l'intera struttura finale del ciclo annuale, il ciclo annuale che è iniziato qui a luglio, vedete, ha fatto il semestrale, vedete che cosa è significato il break del minimo del semestrale, tutto vira al ribasso, qui dovrebbe essere iniziato l'ultimo movimento, gli ultimi tre mesi e con il break di oggi, di stanotte, anche questi tre mesi virano totalmente al ribasso, per cui, ragazzi, qui non c'è più soluzione fino alla chiusura del ciclo annuale, non c'è scampo, si scende e basta, non c'è altra via, perché abbiamo breccato anche quello che è la struttura in pratica del ciclo trimestrale di Bitcoin, perciò ci sarà un'accelerazione al ribasso, probabilmente il mercato andrà in barra di congestione un pochino e chiuderà questo ciclo, alla chiusura del ciclo annuale, non c'è scampo, ragazzi, possiamo solo tagliare per l'inizio di un nuovo ciclo mensile, per un po', ma sarà, non dovrebbe essere, diciamo, molto cospicuo a questo rialzo, ecco, questo è il discorso, cioè potremmo fare una cosa del genere come questo che vi ho disegnato, quindi non c'è più soluzione, andiamo a vedere invece quelle che sono i punti di arrivo, in questo momento il punto di arrivo e il livello di supporto iniziale era intorno a 24, 23,8, io adesso qui non vi ho messo totalmente tutto, comunque intorno a 24, 23,8, questa è la zona del primo livello di supporto che avevamo guardando quelle che era la fase, vedete, di questo mese qui, di dicembre 2020, successivamente si scende ai 19.900, 18.000, quindi questa zona dei 20.000 dollari, e non c'è niente prima, ragazzi, perché lì siamo andati veloci come veramente nella fase, diciamo, di questa bull run che avevamo avuto, dicembre 2020, siamo saliti tantissimo e quindi non c'è soluzione, solo un inizio di un nuovo ciclo mensile che dovrebbe avvenire in teoria a momenti, ragazzi, dovrebbe avvenire a momenti, però quando i mercati sono in trend sinergico a ribasso, quindi in bear market, anche un eventuale ciclo mensile potrebbe avere veramente, ragazzi, i giorni contati e non riusciremo neanche a vederlo, vi faccio capire la questione qual è e la problematica qual è, che anche qui, vedete, è che è iniziato, diciamo, un ciclo, teoricamente, un ciclo trimestrale, quindi addirittura un ciclo molto più grande di un mensile, questa è stata la massima fase di up ed era un trimestrale, ragazzi, quindi possiamo anche assistere, potremmo anche assistere ad un mensile che inizia più o meno così, quindi mi fa qualche giorno di oscillazione per poi ribreccare e ricrollare nuovamente, solitamente quando avvengono questi sciacquoni come questi che vedete in questo momento, sono fasi di chiusura di cicli importanti, però in questo momento siamo anche molto in anticipo sulla chiusura del ciclo annuale, quindi la cosa è, niente, bisogna mettere un freno, ragazzi, si fermo restando anche la visione abbastanza evidente della famosa M ciclica classica, non la M di Mauro, ragazzi, la M ciclica, vedete, con i movimenti finali di questa struttura, quindi il problema è adesso andare a cercare un minimo che dovrà essere il minimo della chiusura del ciclo annuale di Bitcoin. Detto questo, ragazzi, a questo punto andiamo a vedere altri grafici. Ok, ragazzi, andiamo a questo punto a vedere quello che è il grafico di Ethereum. Allora, intanto, Ethereum proprio nella sua struttura è stata una, diciamo, purtroppo chiamata già vista e ne avevamo parlato in maniera estremamente imponente di questa storia di Ethereum, vi avevo spiegato come la convenienza degli istituzionali in questo momento fosse a uscire assolutamente dalla regina delle cripto e questo ha portato un principio di forza relativa minore nei confronti di Ethereum rispetto a Bitcoin. Questa cosa è ovviamente molto importante, ragazzi, tant'è vero che c'è stato proprio un crollo vertiginoso di ETH nel momento in cui si è venuta a palesare questa situazione, soltanto negli ultimi giorni abbiamo un meno 35, un meno 40% della regina delle cripto. Ancora qui, guardate come è veramente distante la fine di questo ciclo annuale se dovesse effettivamente essere molto simile al precedente. Essendo ribassista potrebbe essere più corto dei precedenti, ragazzi, e quindi essere leggermente, cioè finire un po' prima, quindi intorno magari ai 400-390 giorni, quindi una cosa del genere, ci può tranquillamente stare, anche perché la prima fase di questo ciclo, teoricamente, è chiusa a gennaio 197, quindi in pratica, essendo anche accelerata la fase ribassista, potremmo avere una cosetta di questo tipo e quindi andare a chiudere verso i primi di agosto anche questa struttura ciclica annuale per quanto riguarda Ethereum. prima della chiusura di questo ciclo annuale non c'è né neanche per la regina delle cripto, ragazzi. Quindi non vi aspettate riprese perché abbiamo rotto tutti i livelli di supporto, perciò se non c'è la chiusura di questo ciclo annuale non può riprendersi in maniera civile. Dico, ragazzi, parliamo di un anno... Si è arrabbiata anche Siri, ragazzi. Allora, quando ho detto civile... Allora, parliamo comunque di un anno di ripresa, ragazzi, non di una ripresa, diciamo, leggerina o quant'altro. Quindi qui, in questo momento siamo, vedete, su questa fascia di supporto, poi successivamente... Io vi ho avvisato, ragazzi, non c'è... Lo capisco che, diciamo, stiamo parlando di alcune vicissitudini estremamente imponenti, ma non c'è nulla in prima di questa zona. 600 dollari. Se verrà breccata questa fascia, che è proprio quella attuale, ragazzi, che va tra i 1.200 e i 1.000, questa zona, che possiamo indicare in questo modo, con l'area centrale come aria di oscillazione, quindi come prezzo di equilibrio di questa zona qui, quindi stiamo parlando sempre di medio-lungo periodo, quindi un annetto, quindi questa è una zona che potrebbe trattenere un pochino il prezzo. Se breccata successivamente, si tratta di un tracollo regolare intorno ai 600 dollari e non ci sono livelli di supporto di nessun tipo prima dell'arrivo di ETH su questo livello. Le scadenze cicli che ve le ho mostrate, ragazzi, sono quelle lì, che stiamo seguendo già da un po', quindi questa estate, speriamo a questo punto fra un paio di mesi, vediamo se all'interno di quest'area, anche la regione del crypto, riuscirà a trovare una fase di stabilità, oppure no. Andiamo a vedere Nasdaq come è messo, ragazzi, anche Nasdaq sta facendo anche lui un doppio minimo in questo momento, ma è chiaro che questo tipo di analisi porta alla break anche di questo livello. Siamo ancora al 32%, dove può arrivare Nasdaq sul principio che ci siamo detti nei mesi scorsi. Non mi ripeto nelle analisi, ragazzi, andatevele a trovare, lo so che sono un po' difficili perché ne ho fatte tante, però abbiamo ancora la possibilità di vedere Nasdaq crollare di un altro 10 barra 20%, quindi io al di sotto di meno 50, vi dico francamente, dai massimi non lo vedo, quindi ho messo 1 e 2 punti come punti di snodo. Fatevi due calcoli cosa succede al resto del mercato, se vediamo Nasdaq 100 andare giù a questo livello. È il problema che ha innescato anche un panic selling, ora non siamo i soli a guardare questi numeri, ragazzi, soprattutto istituzionali o persone che sono estremamente ferrate negli ambiti degli investing, sono di gran lunga usciti da alcune posizioni pericolose, proprio perché questi segnali di cui vi parlo da mesi sono visibilissimi, quindi chi fa un'attività di investimento oculata, che segue il trend e non si fa bindolare da fesserie di altro tipo, ragazzi, poi lungo periodo ci sta, ragazzi, infatti non è che qui parliamo di uscire e di tracollo totale del sistema dell'ecritto, io non la vedo così come vi ho già spiegato, non la vedo in questo modo, però qualora dovesse essere poi una situazione pericolosissima, ce ne accorgeremo man mano che il tempo passerà, ecco perché io preferisco fare trend following in questo tipo di mercati, ragazzi, perché non stiamo parlando comunque di mercati che dietro hanno infrastrutture di natura reale, diciamo, chiamiamo così il discorso come in parco auto, industrie, producono alimentari, roba del genere, parliamo sempre di tecnologia, ragazzi, quindi nel momento in cui si parla di tecnologia, tutto può succedere, quindi a quel punto trend is your friend, è l'unica strada, non ce n'è un'altra, il resto sono fandonie, almeno io la vedo così, poi sono opinioni, chiaramente in questo caso ragazzi, però questa è, allora andiamo a vedere la questione legata al famoso grafico che dicevo prima di bitcoin, con il future del cm che è leggermente più pulito, quello che ci porta, è una versione un po' differente di questa struttura, questo è il semestrale, guardate, un semestrale così strutturato, interessantissimo, perché ci sta portando dei cicli da 40-50 giorni che dovrebbero essere così, quindi anche questo tipo di analisi ci indica verso i primi di agosto, 3, 5, 10 agosto, quindi verso, fra un mese e due mesi circa, ecco scusate, tra i cicli di giugno, quindi circa due mesi, la fine del movimento del ciclo annuale, il problema è che due mesi così, cioè quello è una cosa insomma di cui prendere assolutamente atto ragazzi, primo livello di supporto sulla price action per quanto riguarda bitcoin, eccolo qui, 20.000 che è quello anche su questo grafico, secondo livello di supporto nella zona giù 16.000 dollari, questa è la struttura, non ce l'ho con nessuno ragazzi, non si parla di catastrofismi, si parla di analisi tecnica su dati di natura reale, ne abbiamo parlato diverse volte, sotto il livello dei 29-30 c'era il vuoto, e questa è, insomma avete visto come reagisce il mercato poi a questo tipo di logica, vi faccio vedere anche un altro grafico nuovo, che è interessantissimo, cioè il gold btc, perché il gold btc ragazzi? perché il gold btc ha iniziato anche lui, quello che è un ciclo di natura quadriennale, poco tempo fa, un po' come la dominance che vi ho fatto vedere ragazzi, allora questo ciclo di ethereum, scusate, oro contro bitcoin, ci segna intanto il trend di lungo periodo, di medio periodo, perché quando parliamo di oro, ragazzi, dal 2017 non è sicuramente lungo periodo, dobbiamo estendere moltissimo, diciamo, quello che è la struttura, e qui abbiamo, vedete, l'inizio, come nella dominance, di un nuovo ciclo, da quattro anni, del gold, verso bitcoin, quindi siamo nella prima area, nella prima fase di rialzo del loro contro bitcoin, che poi dovrà toccare la sua fase di massimo, prima di andare a chiudere la questione, quindi ragazzi, il gioco è tutto qui, perché anche questo, che è un grafico di estrema previsione, ci indica in maniera netta, che è tutto, andrà a dipendere da questa struttura ciclica, del quadri, di questi quattro anni, quindi se bitcoin sarà ancora forte, nei prossimi anni, ora stiamo andando a fare il massimo, di questo ciclo oro bitcoin, e lo stiamo andando a fare, nei prossimi mesi, quindi questo però ragazzi, solo se quello che abbiamo visto in precedenza, si va a mantenere, quindi sarà solo qui, da qui in poi, teoricamente, dopo l'avvento di questa struttura di massimo, che sarà possibile ragionare, dicendo ok, allora faccio il buy the dip, allora mi inserisco, allora c'è, la possibilità di fare un gain, e quant'altro, solo dopo che i giochi sono fatti ragazzi, perché nessuno può sapere dove arriviamo, anticipare il mercato di mesi, 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 è rischiosissimo ragazzi, perché vi prendete i treni in faccia, va bene, ve lo dico già da, non so, saranno 300 anni che ve lo dico, va bene, a parte questo, sicuramente magari non prendete il minimo, ma almeno non prendete queste cose, ieri abbiamo fatto una micro operazione long, purtroppo, dovuta a una strategia su bitcoin, mentre siamo usciti dalle posizioni holding, qualche giorno fa, in hold siamo usciti, io sono uscito in maniera molto più corposa, rispetto anche alle precedenti, però la strategia di breve, quella del mese di giugno, è entrata long ieri con un micro lotto, e stiamo già in perdita, perché è una strategia di buy the dip ragazzi, quindi nel momento in cui, quelle strategie che noi seguiamo, facciamo buy the dip, dobbiamo sapere quello che stiamo facendo, perché quella strategia, adesso vediamo se riusciamo a recuperare, io come sempre prendo queste cose come sfide da tradere, quella è una strategia di trading, non è di posizione, però ragazzi vedete, quando si fa il buy the dip, si prendono poi i treni in faccia, diciamo quando il mercato va male, ed è infatti il problema serio di questo tipo di strategia, ma non è detto, magari la recuperiamo, vediamo se riusciamo a trovare un modo, allora questo grafico qui, sta andando a fare il massimo, dopo se bitcoin manterrà lo stesso tipo di struttura che ha avuto, secondo me sì ragazzi, io vi dico la verità, rispetto agli anni precedenti, avremo una fase di minimo definitiva, definitiva che avverrà verso fine anno, più o meno gennaio-febbraio 2023, da lì poi ci sarà, lo so che io vi ho detto che c'è la questione legata all'annuale di bitcoin che finisce prima, infatti è proprio questo il problema, non vorrei assistere ragazzi a dei movimenti più lunghi, e quindi un altro annuale in bear, anche sui mercati delle cripto, perché vi ricordo che la prima volta che si va a manifestare un bear market cripto sotto una fase di exit strategy dai tassi di interesse e dai soldi regalati con un mercato hold che deve fare i conti con la bolla pesantissima che era presente lì, le cripto purtroppo non sembrano trovare pace neanche da questo punto di vista, ci sarà una maxipulizia generale, quindi non è detto che anche il prossimo ciclo annuale di bitcoin sia rialzista, quindi dovremmo assolutamente andare a considerare anche queste ipotesi, la faremo dopo la chiusura di questo ciclo annuale, perché prima dovremmo vedere dove finiamo questo del discorso e poi vedere se ci sono delle opportunità, perché no, anche di longare nel medio-lungo periodo, allora a quel punto sì, ci mettiamo a studiarci dei punti di ingresso. Quindi questo grafico volevo farvelo vedere ragazzi, perché è anche indicativo di una data di questa zona, zona di confine, che porterebbe a indicarci anche quando il gold può cambiare i trend nei confronti proprio di BTC. Allora, la dominance che oggi non recupera, quindi non va più su, è anche arrivata a un livello importante di target di cui avevamo parlato nei precedenti video, cioè quest'area che vi avevo segnato precedentemente, la zona è intorno ai 48-50%. Ora, ha invertito il trend, però ancora la dominance non è proprio esplosiva, segno che Bitcoin non reggia neanche lui, non è, secondo me, dovuto in questo caso al non crollo delle altcoin, che invece stanno andando a picco, ma è dovuto al fatto che Bitcoin ha perso troppo rispetto anche a Ethereum. secondo me doveva essere più forte Bitcoin in questa fase, invece non lo è stato, anche qui andare a guardare, andare a ragionare su questa cosa, sarà compito poi nei prossimi mesi. Comunque dominance trova la sua livello di resistenza intorno a 50, poi successivamente si salirà all'interno di questa zona, eventualmente dovesse essere un annuale estremamente rialzista, potremmo arrivare probabilmente massimo intorno a questa zona qui, secondo me, ragazzi, 53-54%. Già qui un'eventuale nuova aria, secondo me è un po' altina, ve lo dico proprio in maniera chiara, però, insomma, anche questo vi fa capire come la questione fallimento, falliscono tutte le altcoin, Ethereum totalmente, io non la vedo così, però non sono un disfattista, ragazzi, analizzo sempre i mercati, sono estremamente prudenziale, estremamente preciso nelle cose che faccio, non sparo fesserie, tanto per dirle, ragazzi, non è il mio modo di fare, lo sapete, ormai mi conoscete da anni, quindi magari sono estremamente preciso su certe cose, però ritengo che sia questa la soluzione migliore, per gestire i mercati e analizzare i dati, ragazzi, che sono l'unica vera fonte di informazione importante, l'analisi del dato, ragazzi, ok? Poi nella live domani andiamo a parlare anche della questione Ethereum BTC, perché la questione Ethereum BTC ha breccato il livello 0.052, però sta anche facendo, vedete, questa candelina in questa settimana, vedremo dove finirà, l'andiamo ad analizzare nella giornata di domani, quindi domani tutti i live al solito posto, ormai lo sapete, ragazzi, su Telegram vi do il link per la live, e noi ci rivediamo nel prossimo video, Bear Market insegna tantissimo, ragazzi, mi raccomando, non vi fate abbattere da queste situazioni, ve lo continuo a dire, perché se resistete in una situazione del genere, prendete le vostre precauzioni, imparate tanto in un contesto del genere, avrete poi la forza successivamente di stare sui trend giusti, nel momento giusto e nei modi giusti, perché da questi mercati, ragazzi, si impara molto di più che da quelli long, va bene? Bisogna resistere, ve l'ho detto anche già tantissime volte, va bene? Ciao, alla prossima!